275 ragazzi hanno conseguito nell'ultimo periodo certificazioni di lingua inglese, francese e spagnolo, un risultato ottenuto grazie ad un progetto del liceo Carlo Troia di Andria, ieri pomeriggio infatti, la cerimonia di consegna degli attestati cosiddetti Cambridge all'interno della biblioteca comunale CECI. Risultati soddisfacenti per gli studenti che hanno conseguito certificazioni di livello B2 e C1, una possibilità formativa per i ragazzi che hanno potuto svolgere corsi di preparazione all'esame presso lo stesso liceo, divenuto centro di preparazione Cambridge e premiato lo scorso aprile dell'ambasciata britannica a Roma come miglior istituto in Italia per la preparazione degli studenti alle certificazioni di lingua inglese. Un altro bel tassello che noi aggiungiamo ad altri risultati pienamente conseguiti perché proprio l'anno scorso siamo stati a Roma all'ambasciata britannica proprio perché ci è stato conferito il premio come miglior centro che prepara gli studenti al conseguimento delle certificazioni linguistiche Cambridge. Un tassello importante nel percorso formativo dei ragazzi, un bonus da poter spendere nel mondo universitario e lavorativo. Siamo in un contesto multiculturale, multietnico e oggi più che mai è importante la conoscenza della lingua straniera, questo sia ai fini personali per un ampliamento culturale, sia ai fini professionali.